I 420 operai della Onewell torneranno al lavoro ma sarà un rientro amaro dopo 60 lunghi giorni di sciopero ad oltranze e di presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica di Atessa. La multinazionale martedì nella call conference con il ministro delle attività produttive Carlo Calenda ha ufficializzato la decisione che tutti i media avevano anticipato e che l'azienda aveva sempre bollato come falsità cioè la chiusura dello stabilimento della Val di Sangro ad aprile 2018. Ieri sera nell'assemblea convocata dai sindacati con i lavoratori svoltasi all'interno del municipio di Atessa è stato deciso il rientro in fabbrica con una sola certezza la fine dell'esperienza Onewell e tanti interrogativi per il futuro. Martedì prossimo 21 novembre ci sarà un altro incontro al Mise in cui decidere i prossimi passi.